Numero 4. Questo massaggiatore per piedi elettrico Renfo è la scelta perfetta per chi desidera sperimentare un massaggio shatsu profondo e rilassante a casa propria. Grazie alla sua tecnologia avanzata, dotata di cuscinetto rotante, bacchetta rotante, calore e compressione dell'aria, questo prodotto offre un sollievo immediato dal dolore associato alla fascite plantare, migliora la circolazione sanguigna e riduce l'affaticamento fisico. Inoltre, l'effetto del riflesso nervale plantare non solo favorisce il benessere dei piedi, ma anche il sonno. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 3. Il massaggiatore piedi elettrico Snilax è la soluzione perfetta per chi desidera prendersi cura dei propri piedi con un trattamento rilassante e terapeutico direttamente a casa propria. Grazie alle sue tre modalità di massaggio automatico e alle tre intensità selezionabili, questo dispositivo si adatta alle esigenze specifiche di ogni individuo. È particolarmente consigliato per chi passa molte ore in piedi, per chi ha uno stile di vita sedentario o per gli anziani che soffrono di dolori plantari o problemi circolatori. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 2. Il massaggio ai piedi è un trattamento che viene sempre più apprezzato per il suo effetto rilassante e benefico sul corpo e sulla mente. E se si potesse avere un massaggiatore professionale sempre a portata di mano? Ecco che entra in scena il massaggiatore piedi elettrico, un prodotto innovativo studiato per garantire un massaggio completo e di alta qualità. Grazie alla sua altezza di 50 cm, il massaggiatore riesce a raggiungere anche la parte inferiore della gamba, garantendo un effetto rilassante su tutto il corpo. Inoltre, i supporti antiscivolo offrono una maggiore sicurezza e comfort durante l'utilizzo. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 1. Vitalzen Plus è indispensabile per tutti coloro che vogliono godersi un massaggio rigenerante a casa propria. Questo massaggiatore per piedi elettrico è dotato di tutte le funzionalità necessarie per garantire un trattamento completo e personalizzato alle diverse aree delle gambe, piedi, caviglie, gambe, polpacci, ginocchia e cosce. Con il suo sistema a compressione, composto da 30 airbag e tre modalità di massaggio, è in grado di stimolare la circolazione sanguigna e il riscaldamento dei muscoli, riducendo così lo stress e la tensione. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.